La sicurezza non è solo un'esigenza individuale e collettiva, è anche una materia da conoscere e approfondire, senza stereotipi, preconcetti o luoghi comuni. Per questo Vedano Olona organizza due serate informative il 1 e 8 febbraio alle 20.30 in Villa Liverti, chiamando in cattedra un esperto come Giuseppe Battarino, ex magistrato ma anche scrittore, divulgatore e grande comunicatore. L'iniziativa presentata dal sindaco Citterio, dagli assessori Righi e Ghiraldi nasce in sinergia con le amministrazioni vicine di casa, Binago e Malnate, e va in continuità con gli incontri che Battarino ha già curato nel Comasco. Vedano, che ha vinto la sfida del controllo di vicinato, potrà così offrire alla comunità due spazi utili a comprendere i meccanismi che regolano la sicurezza, trasmettendo un concetto di legalità da praticare, comunicare e ancorare le competenze.